Il secondo appuntamento che riguarda l'alimentazione è un argomento che ci è sempre stato molto richiesto. Questa sera abbiamo voluto ampliare un pochino la platea, nel senso che abbiamo inserito anche la dottoressa Filice, che è un medico nucleare, ma abbiamo voluto introdurre anche la figura del medico di medicina generale, che non abbiamo mai preso troppo in considerazione durante i nostri eventi. Però vorremmo iniziare questo tipo di educazione, perché anche il medico di medicina generale fa parte del team. Potrei dire che può entrare a far parte del team multidisciplinare a tutti gli effetti, perché comunque è un anello della catena anche il medico di medicina generale. Quindi io ti lascio la parola, Andrea, per la moderazione dei professionisti. Grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie Luisa, grazie a tutti voi per essere ancora una volta così numerosi presenti a questi nostri incontri. Mi fa molto piacere, sapete benissimo quante volte nei nostri webinar o anche di persona abbiamo avuto moto di parlare dell'importanza della medicina generale e io sostengo che il medico generale, il medico di base, è il primo, uno ha un problema e in teoria non dovrebbe andare al pronto soccorso se non è una questione particolarmente grave e invece sappiamo che purtroppo i pronto soccorso sono spesso intasati per una situazione che non è sempre molto felice a livello di medicina generale, ma sentiremo poi cosa ci dirà la dottoressa Roveri. È il medico che ti può anche salvare la vita, perché ti dice esattamente che cosa devi incominciare a fare quando hai dei problemi. Noi iniziamo i nostri lavori come sempre con la nostra fondatrice, presidente, mamma, non per età, semplicemente con l'affetto perché le dobbiamo. Vabbè anche un pochino. Anche quello, tutto. Va bene. E quindi Paola Tomassetti a te la parola. Allora buonasera a tutti, grazie dell'invito, mi sento a casa comunque perché Simone e Luisa che io chiamo come del resto fai tu Andrea le mie ragazze, sono instaccabili organizzatrici di eventi che servono molto ai pazienti e anche a noi per capire meglio, per essere più vicini ai pazienti. Quindi io le ringrazio sempre di tutta la loro opera quotidiana direi. Escono sempre fuori con delle nuove cose, abbiamo organizzato questo, abbiamo organizzato e io per questo sono molto contenta e le ammiro molto. Anche perché avendo fondato questa associazione insieme ai miei pazienti mi fa piacere che la cosa vada avanti, che in nessuna maniera si interrompa. Loro questa sera mi hanno affidato il compito, io voglio essere abbastanza breve perché forse la maggioranza di voi pazienti che è presente stasera, collegata a stasera, probabilmente sa già un po' le cose che io dirò. C'è un inquadramento di quello che sono i tumori endocrini. Diciamo che il tumore che viene chiamato un euroendocrino ma perché sono tumori che si sviluppano in cellule e in fibre nervose che in organi che non sono strettamente strutturati in senso endocrino e producono delle, in alcuni casi, in altri casi no, producono delle sostanze che sono sostanze ormonali o sostanze peptidiche, gli ormoni sono dei peptidi, o delle amine che hanno una funzione regolatoria nei confronti di altri organi. Sono tumori rari, ce lo siamo sempre detto, ricordo un film che fece Novartis sui tumori endocrini, io ho fatto vedere tante volte, che adesso forse ragazze bisognerebbe riprenderlo perché è abbastanza bello. Il paziente è di fronte alla diagnosi di tumore, tumore endocrino, che cos'è questo tumore, che cosa strana, è un tumore raro? Allora si dice ma è un tumore raro, ne ha sentito parlare poco. In realtà è un tumore raro, fa parte dei tumori rari, ma meno raro di quello che noi possiamo pensare, perché in realtà in questi ultimi anni, diciamo in questi ultimi decenni, che forse è più preciso, questi tumori sono in incremento, ma in realtà non è che sono in incremento perché è molto aumentato, in parte è incrementata la patologia oncologica purtroppo, ma in parte e per lo più, diciamo, questi tumori sono più maggiormente diagnosticati, perché abbiamo delle metodiche che sono assolutamente nuove e estremamente tecnologiche, diciamo, che ci consentono di fare una diagnosi. Io quando mi sono laureata tanti anni fa, sapevo che questi, mi sono sempre occupata di questo argomento, ma sapevo che questi tumori venivano chiamati tumori endocrini e punto, e venivano messi tutti anche dal punto di vista anatomopatologico, solo, tutti in uno stesso calderone, per cui venivano distinti da altre patologie neoplastiche. In realtà, con, appunto, soprattutto perché poi questi tumori spesso sono silenti, allora vengono diagnosticati spesse volte quando sono in stadio avanzato, ma altre volte sono piccoli, asintomatici e, ad esempio, si va a fare una gastroscopia, una colonoscopia, un'ecografia e per caso si scopre, magari sono piccole masse, cose da poco che non hanno dato sintomi. Quindi la rarità è poi abbastanza relativa. Abbiamo una insorgenza in, fondamentalmente, io sono un gastroenterologo e mi sono sempre occupata soprattutto dei tumori gastrointestinali e del pancreas, però questi tumori possono insorgere un po' in tutte le parti del nostro organismo e, in particolare, quelli più frequenti sono quelli polmonari. I tumori neuroendocrini si distinguono in tumori funzionanti e non funzionanti. Cosa significano queste due parole? Funzionanti perché secernendo, mettendo in circolo quelle sostanze di cui abbiamo parlato, c'è ormoni e peptidi, questi peptidi in circolo vanno a bersagliare, diciamo, altri organi dando una sintomatologia che noi chiamiamo sindrome. Faccio un esempio, c'è un ormone che viene segreto da queste cellule che vengono, sono in sede spesse volte nello stomaco, nel duodeno, nel pancreas, che secernano una sostanza che si chiama gastrina, è un ormone, un peptide. La gastrina ha un'azione di ipersecrezione a livello delle cellule dello stomaco che producono acido cloridico, per cui ci sono delle manifestazioni da ipersecrezione gastrica. Altro esempio, l'insulinoma, un tumore che secerne insulina, che cosa fa l'insulina? Ovviamente abbassa i livelli dello zucchero nel sangue e quindi abbiamo una sindrome. Poi ci sono i tumori non funzionanti e quelli non funzionanti sono quei tumori che non secernano in apparenza, non secerno delle sostanze che hanno funzione regolatoria o bersaglio di alcuni organi. Sembra qualcuno in letteratura ha detto no, in realtà queste cellule le secernano, però non le mettono in circolo. Ci sono oppure non mettono in circolo forme molecolari biologicamente attive che possono dare dei sintomi. Quindi diciamo che i tumori funzionanti hanno dei sintomi, i non funzionanti che possono essere ugualmente piccoli non danno sintomi e quindi vengono scoperti, come vi dicevo prima, con una gastroscopia, una conoscopia, un'ecografia. Sul piano anatomopatologico io ho sempre detto e continuo a dirlo all'infinito, noi abbiamo tutta questa tecnologia di metodiche, se noi pensiamo a come si fanno adesso le gastroscopie, le conoscopie, l'equendoscopia, la TAC, la risonanza, poi ovviamente non parlerò specificamente di queste metodiche, ma sono metodiche che assolutamente ci hanno cambiato la vita, sempre perché io sono vecchia. Quando mi sono laureata non c'era la TAC, non c'era la risonanza e non c'era neanche l'ecografia. Quindi quando dovevamo fare una diagnosi eravamo in grande difficoltà, adesso è veramente un'altra vita. Però ricordatevi che le metodiche di imaging non sono mai in grado di fare una diagnosi di natura. La diagnosi di natura si fa solo, esclusivamente, con l'anatomia patologica, cioè si prende il pezzettino di lesione e la si manda al patologo ed è il patologo che vi dirà realmente qual è la diagnosi. Ora, un tempo, anche non tantissimi anni fa, questi tumori non erano ben classificati. Si chiamavano tutti carcinoidi, questi anche dai primi del Novecento, ma poi fino agli anni Settanta erano tutti carcinoidi e non riuscivamo dal punto di vista di inquadramento e di diagnosi a dargli un esatto nome. Allora, tante volte, questa chiacchierata è una chiacchierata informale, quindi mi fa piacere anche fare degli esempi, tante volte mi telefonavano, magari da varie parti d'Italia, dicono, ah, sai, ho un paziente che ha un carcinoide e questo non significa nulla, perché tutti i tumori neuroendocrini venivano chiamati carcinoidi. Poi finalmente nel 2010 l'Organizzazione Mondiale della Sanità con degli anatomopatologi italiani, soprattutto anche americani, ma il professor Solcia, il professor Rindi, che sono a livello internazionalmente conosciuti, grandi studiosi e ricercatori, hanno dato una configurazione di questi tumori, per cui si chiamano tumori intanto neuroendocrini, per le motivazioni che vi ho detto prima, e poi neuroendocrini specificando la sede, stomaco, pancreas, intestino, intestino tenue, intestino crasso, retto, polmone e così avanti, per cui hanno classificato, poi sono quasi ogni anno esce una piccola così modificazione di quelle che sono, perché la ricerca, lo studio e la ricerca su questi tumori ci danno delle visioni nuove, una diagnostica sempre più precisa. Allora, hanno intanto classificato tumore endocrino per sede e successivamente tumore endocrino per, diciamo, gravità. I tumori, il nome tumore è stato dato alle forme meno aggressive. Poi c'è il carcinoma, poi c'è il tumore misto che si chiama Minen. Ma io non voglio insistere particolarmente su questo aspetto, perché la cosa che mi preme di sottolineare stasera è quello di dire, attenzione, è importante che noi ci affidiamo all'anatomia patologica e solo l'anatomia patologica, il collega patologo potrà fare la diagnosi. Dicevamo quindi che i tumori possono essere a livello del pancreas, a livello del pancreas e il canale digerente. Fanno parte tutti della gastroenterologia, ma il pancreas ha una struttura particolare e quindi va preso come organo a sé e poi il canale digerente che è fatto dallo stomaco, dal duodeno, dall'intestino tenue dell'intestino grasso. Ora i net funzionanti ve li dico rapidamente, perché credo che veramente non sia importante in questa serie stare a specificare. Questa sera si parlerà di alimentazione e di etica e questo è l'aspetto più importante di questa riunione. Però finisco un attimo di fare questo piccolo discorso, questa piccola classificazione. Per quanto riguarda i tumori endogoni funzionanti ho menzionato, vi menziono quelli più frequenti, il gastrinoma che è quello che c'è nella gastrina e che dà che cosa? Un'ipersecrezione acida, quindi che cosa? L'ulcera o dei sintomi che sono riferibili a una ulcera, una gastrite, sintomi molto banali. Quando non c'erano a disposizione i farmaci bloccanti della pompa protonica, il gastrinoma che si manifesta con la sindrome di Zollinger-Ellison, sono un'ulcera, ulcera sanguinante, noi non avevamo modo di controllare questo aspetto, perché non avevamo dei farmaci sufficienti per bloccare la secrezione di acido. Adesso noi abbiamo i bloccanti, li chiamano PPI, cioè il bloccante della pompa protonica, che sono farmaci che guariscono tutto. E allora spesse volte, a me è capitato, parecchie volte, di non diagnosticare la sindrome di Zollinger-Ellison, cioè la presenza di un tumore a secrezione di gastrina, perché è ai primi sintomi, tutti lo facciamo, sono la prima, è ai primi sintomi di ipersecrezione acida, di brusciore di stomaco, di acidità, noi ci prendiamo un pantoprazolo, un esomeprazolo e stiamo bene, e si sta bene anche quando uno ha un tumore di questo genere, per cui la diagnosi veriva ritardata. E a tutt'oggi però i farmaci bloccanti e la pompa protonica sono un mezzo assolutamente efficace per controllare la sindrome di questo tumore funzionante. Poi c'è l'insulinoma, che è uno dei tumori del pancreas più frequenti perché dà una sindrome ipoglicemica e quante volte in passato, questo lo riportano anche i testi, ma fa parte della nostra esperienza di medici, i pazienti che avevano l'insulinoma con crisi ipoglicemiche, cioè quella che noi chiamiamo la neuroglicopenia, cioè sensazione di svenimento, sensazione di non potersi concentrare fino al coma, noi pensavamo che potessero essere dei pazienti depressi. Perché? Perché questi mangiano, perché l'ipoglicemia li porta a mangiare, ingrassano, per cui l'ultima cosa che pensa è che questi pazienti abbiano un tumore. Quindi adesso però con le nuove metodiche, soltanto, semplicemente l'ecografia, anche se spesse volte questi tumori sono molto piccoli a livello del pancreas e quindi non è sempre facile che siano visti i diagnosticati dall'ecografia, però siamo molto più agevolati nella diagnosi. Questi sono, vi parlo di questi due tumori che sono i più frequenti a livello del pancreas e questi due tumori, per quello che ci diranno e ci diremo stasera, che si parla di alimentazione, forse sono forse i tumori che maggiormente richiedono alcoggiamenti dietetici. Poi ci sono altri tumori, il tipoma, il somatostatinoma, il glucaconoma, ma sono talmente rari che io, che ho passato una vita a vedere questi pazienti, per quanto riguarda il Bipoma, il glucaconoma, il somatostatinoma, ne avrò visti forse al massimo le dita di due mani. Questi per quanto riguarda il tumore del pancreas. Il tumore del canale digerente, io ho dieci minuti, sto sforando? Faccio rapida, perché questi sicuramente sono i tumori più importanti e associatamente ai tumori dell'intestino, dell'intestino tenue, sono molto, i gastroenterologi vedono molto i tumori dello stomaco, gli endognoni dello stomaco e lì la diagnosi è molto facile perché con l'endoscopia siamo in grado di fare una diagnosi rapida. Poi i tumori del duodeno e i tumori dell'intestino tenue sono sicuramente non tanto quelli del duodeno quanto quelli dell'intestino tenue, in particolare il tumore a serotonina, sono il più frequente tumore del canale digerente. Sono di solito tumori funzionanti, ma dico di solito perché ci sono una parte che non danno alcuna sindrome, la sindrome da carcinoide è una sindrome caratterizzata da diarrea, da flashing, legata alla presenza in circolo di quelle sostanze, in prima istanza la serotonina, ma ci sono tante altre sostanze che noi ipotizziamo che ci siano, sono state identificate e descritte da vari ricercatori, ma che non riusciamo a dosarle in circolo. Quindi il più importante è la serotonina e questo tumore è generalmente poco aggressivo e l'importanza di questo tumore, parlando di nutrizione e di alimentazione, è importante perché una delle caratteristiche maggiori è quella di manifestarsi con una diarrea, anche con un flashing, cioè un rossore nel viso, però soprattutto con la presenza in circolo di elevati livelli di serotonina, il cui metabolita si trova a livello delle urine che è l'acido 5-drossindolacetico. Tutto dipende dal consumo di serotonina e di triptofano, per cui si ha in circolo una, adesso questa è una cosa un po' tecnica, ma insomma ci possono essere delle alterazioni legate a un deficit di una sostanza che si chiama niacina. Questo è, lo dico, anche se è una cosa un po' tecnica, perché può introdurre all'argomento di cui ci parlerà il dottor Luppi e il collega che ci parla di alimentazione, perché i sintomi più importanti sono soprattutto la diarrea e il flashing. Direi che ho già sforato, sono a disposizione ovviamente nel corso di questo tempo che ci concedete di entrare in discussione per qualsiasi domanda abbiate voglia di farmi. Grazie comunque. Grazie, grazie prof. E quindi do subito la parola a approfondimento sui nette possibili problemi con l'alimentazione al nostro Gabriele Luppi, che tra l'altro di alimentazione ne sa, perché lui ci portò un giorno in un posto meraviglioso dove io spero sempre di tornare... Hai mangiato molto! Ho mangiato molto bene, nonostante il mio diabete, però noi non lo diciamo al diabetologo... No! Gabriele, buonasera. Buonasera a tutti, grazie Simona, grazie Luisa, grazie Andrea, Paola, Giulia, è veramente un piacere essere qui con voi a parlare di un argomento a grande richiesta, ma giustamente a grande richiesta, perché in oncologia in generale quando c'è una diagnosi di tumore l'alimentazione viene attribuita un'importanza, a torto ragione, viene attribuita un'importanza enorme. Addirittura il paziente appena c'è una diagnosi pensa che subito si chiede ma cosa ho sbagliato, cosa ho mangiato di sbagliato, ho avuto un paziente una volta che lui aveva fatto, aveva capito il suo tumore, fa questo è un regalo di mio zio perché io ho mangiato tonnellate di carote, fa allora lui si aveva già fatto un test genetico fatto in casa, fa ma io ho sempre mangiato, ho fatto sport, ho fatto... per cui vi ha attribuito una importanza, non solo, quando c'è la diagnosi di tumore subito uno si chiede cosa posso, cosa non posso mangiare o cosa addirittura cosa devo mangiare per curare il mio tumore. Allora noi dobbiamo andare incontro a questi dubbi, a queste domande, a queste richieste dei pazienti. Infatti vi dirò che io quando faccio una prima visita oncologica vent'anni fa dell'alimentazione non ne parlavo o ne parlavo quando si consigliava un piano terapeutico più o meno. Adesso invece già nella prima visita bisogna parlare anche della nutrizione per aiutare a introdurre il paziente ad una corretta gestione e a capire meglio quelli che sono i problemi dell'alimentazione o meno e quindi cominciare a dire e sfatare certi tabù o certe fake news perché proprio sull'alimentazione e tumori ci sono, ce lo dirà poi l'amico Filippo Valoriani, cosa girano delle fake news enormi. Infatti io dico sempre guardi che, glielo dico subito, lei può mangiare lo zucchero a carne rossa perché chissà quanti le diranno che non può mangiare questo, non può mangiare quello. Allora insomma mettiamo avanti le cose, mettiamo avanti. Poi l'alimentazione, adesso cercherò di aprire la strada all'intervento dell'amico nutrizionista, caldiamo il problema dell'alimentazione nel mondo complicato dei NET, quindi un mondo veramente vario e fortunatamente molti pazienti con NET direi che non hanno problemi specifici di alimentazione perché fanno la loro vita normale, fanno l'alimentazione normalissima. Però in tanti casi ci sono tante questioni in cui l'alimentazione c'entra e come. Ma riprendendo poi il discorso della professoressa Tomassetti sui NET, certo che è importante sempre capire bene che malattie abbiamo di fronte, quindi lo stadio, il punto di partenza che influisce molto su quella che è la prognosi e anche le possibilità terapeutiche, se un tumore primitivo è stato operato o no e ritorniamo se è sindromico o no, se c'è una sindrome o se non c'è, se è presente o no. Allora, le sindrome più frequenti, l'ha già detto la professoressa Tomassetti, la sindrome da carcinoide, l'insulinoma e il gastrinoma. Riprendo un attimo solo la sindrome da carcinoide che è quella a volte più difficile di diagnosticare che comporti ritardi di diagnosi maggiori perché sono disturbi, la diarrea, il flashing, a volte molto sfumati e vengono scambiati con patologie molte comuni. Molti di questi pazienti hanno le diagnosi per anni di colon irritabile, di ansia, poi sono sintomi spesso scatenati anche da alimenti, per cui è sempre difficile far capire veramente finché non si arriva una diagnosi corretta di sindrome da carcinoide. D'altra parte, tante volte anche negli ospedali appena uno c'è una diarrea che non si spiegano pensano che sia la sindrome da carcinoide, allora io dico sempre che guardate la sindrome da carcinoide non viene da un tumorino piccolo occulto che non avete trovato perché nella maggior parte dei casi nella sindrome da carcinoide ci sono le metastasi epatiche perché sappiamo che soprattutto nelle forme di sindrome da carcinoide da origine del piccolo intestino, da tumori da carcinoide del piccolo intestino, queste sostanze, queste chinine, la serotonina vengono inattivate a livello epatico, per cui sono proprio invece le metastasi epatiche che mettono in circolo direttamente serotonina, chinine, prostaglandine, queste sostanze ormonali che generano la sindrome e le mettono in circolo, altrimenti se non ci sono le metastasi epatiche spesso quello che produce il tumore primitivo viene inattivato nel circolo epatico, adesso questo è un discorso un po' tecnico-medico, ma insomma per dare un'idea che certo è vero che a volte possono esserci l'assiduo della carcinoide anche senza metastasi epatiche perché possono essere messe in circolo queste sostanze da carcinoidi presenti, non so, in masse ovariche o in masse elettropanitoneari o nei carcinoidi polmonari dove le secrezioni di queste sostanze vanno direttamente nel circolo e quindi abbiamo questa assiduo della carcinoide con i sintomi che diceva prima la professoressa Tomassetti, una diarrea più o meno che può essere anche clamorosamente importante, questi ci ricordiamo quando c'erano ancora gli analoghi della sabatostatina che sono entrati in commercio e sono stati un toccasana per combattere questa sindrome, ma si vedevano delle diarrea acquose con 20-30 scariche al giorno, cose invalidanti al massimo, lo stesso flushing, ma ci sono altre complicanze importanti nell'assiduo della carcinoide che sono la cardiopatia, la valvolopatia destra, insufficienza a ostenosi tricuspidale o della valvola ottica, questa cardiopatia condiziona parecchio la sopravvivenza dei pazienti con già l'assiduo della carcinoide insomma un elemento peggiorativo nella proniosi, delle forme ideali. Se poi c'è anche la cardiopatia, questo è un elemento che effettivamente complica la clinica dei pazienti, tante volte dobbiamo discutere in questi casi con il cardiochirurgo perché a volte c'è indicazione a un intervento di sostituzione valvolare, a volte non si fa perché si pensa che non sia proporzionato questo intervento rispetto a… insomma sono problematiche che richiedono tante volte proprio una reale, vera discussione multidisciplinare attorno a un paziente, ma la stessa diagnosi di cardiopatia tra carcinoide deve essere fatta spesso da un cardiologo esperto che sa quello che deve andare a cercare e quindi siamo noi che dobbiamo indirizzare e mettere un quesito, non fare un ecocardiogramma qualsiasi, ma dire fare un ecocardiogramma per vedere se c'è una cardiopatia tra carcinoide, con questo sono tutti aspetti molto importanti. Poi sulla terapia della sintoma della carcinoide effettivamente abbiamo gli analoghi della somatostatina che sono entrati in commercio ormai negli anni 80, però quando c'erano le forme che si dovevano fare tre iniezioni di sottocute al giorno, insomma era più complicato, poi con le formulazioni di long acting veramente abbiamo ottenuto ottimi risultati, c'è un buon controllo della sindrome anche dell'80-90%, ma spesso non basta, perché sono pazienti che devono avere un'aspettanza vitale lunga, quindi una vita lunga, quindi l'effetto del tampone, diciamo, della somatostatina si può esaurire, allora bisogna intervenire con altre terapie. Le terapie fondamentali, in questi quanti sono la sintoma della carcinoide, è ridurre la massa neoplastica, certo operare il tumore primitivo, operare le metastasi, ma anche con le terapie locali nel fegato, l'embolizzazione, dobbiamo ridurre la quota di tumore che butta in circolo queste sostanze. Ma la stessa terapia radiorecettoriale è importante. E a proposito poi di questi interventi chirurgici o embolizzazioni, i pazienti che hanno una sindrome da carcinoide, attenzione, perché uno dei pericoli è la crisi da carcinoide, una vera emergenza clinica che mette a rischio la vita dei pazienti se non c'è un team anestesiologico preparato che sa bene quello che deve fare quel paziente. Ma a volte il paziente può arrivare ad un intervento chirurgico senza neanche aver avuto una diagnosi prima di sindrome da carcinoide e quindi trovare in preparato il team anestesiologico e chirurgico. Questo può essere una crisi da carcinoide che effettivamente mette a rischio la vita con dei scompensi di circolo importanti che però va soprattutto prevenuta con adeguate somministrazioni di analoghi della somatrostatina. Quindi questo per dire che poi la sigla carcinoide può essere tipica, quella in genere da origine da carcinoidi ileali, più atipica quella che deriva da net polmonari, questo dipende dalla prevalenza o meno delle sostanze che vengono messe in circolo. Quindi, insomma, chiaramente in una sindrome da carcinoide il nutrizionista ha il suo ruolo perché se c'è una diarrea, se ci sono degli alimenti che scatenano, che possono scatenare, la reflashing o la diarrea e quindi queste cose vanno conosciute. Ma tornando al discorso dell'alimentazione e net, sono diverse le situazioni cliniche in cui il nutrizionista ci deve, ci può dare una mano nella gestione di questi pazienti. E mi vengono in mente tante situazioni proprio nella pratica clinica. Ripeto, tanti pazienti stanno bene, non hanno bisogno né dell'oncologo né della nutrizionista fortunatamente. Però, al di là, oltre alla sindrome da carcinoide, alla diarrea da carcinoide, pensiamo a chi ha problemi, la cosiddetta sindrome da intestino corto, chi per togliere un tumore carcinoide ideale magari ha asportato, ha avuto un'ampia resezione ideale. In questi casi c'è un alterato transito, c'è un malassorbimento di alimenti. Oppure pensiamo alle difficoltà, al quadro opposto, difficoltà di transito e quadri di subocclusioni intestinali ripetute causate dalla, anche questo è un quadro clinico tipico del carcinoide ideale, dalla reazione desmoplastica mesenteriale. Cioè questa fibrosi che va ad angolare, a costringere le reazioni intestinali e a dare problemi di subocclusione con i pazienti operati 7-8 volte. Pensate alla qualità di vita di questi pazienti che tutte le volte gli tolgono un pezzo di testino. E quindi veramente sono, qui diventa molto importante l'alimentazione in questi casi. Ma pensiamo anche a un'insufficienza pancreatica a post intervento con la cosiddetta steatorrea, da maldigestione dei grassi. Pensiamo alla malnutrizione tipica di una malattia avanzata che può essere nei net, ma è comune a tante altre neoplasie. Quindi anche in questo caso il nutrizionista ci dà un sostegno, un supporto rilevante nella gestione del paziente. E pensiamo anche all'alimentazione, quanto importante, correttivi nell'alimentazione in corso di terapie oncologiche per i net. Innanzitutto gli analoghi della somatrostatina, sappiamo che vanno, molti pazienti ce lo dicono, il meteorismo e un po' la diarrea e il malassorbimento di vitamine, eccetera. Ma pensiamo anche all'everolimus, che quasi sempre causa iperglicemie o diabete. Pensiamo alla stessa chemioterapia, insomma sono diverse le terapie sui quali dobbiamo noi aggiustare il tiro e dare dei consigli esatti sulla alimentazione. Io credo che il dottor Valoriani su questi aspetti ci possa poi chiarire, dare ulteriori chiarimenti. Mi fermerei anche qui per lasciare spazio poi alla discussione e ai miei interventi. Grazie, come sempre anche per la tua chiarezza, Gabriele Luppi. Adesso usciamo un attimino dal tema dell'alimentazione. La dottoressa Angelina, qui so già che sbaglierò, è felice, giusto? Felice, però forse c'è un'inversione. Adesso c'è l'intervento del dottor Valoriani. Che però nella mail che mi avete mandato non era così. No, adesso va bene. Era per creare un cube de teatro. Esatto, bravo Filippo, mi hai tolto dall'impasse. Allora, Filippo Valoriani, per gli amici che ci seguono e che magari non conoscono tutti, come può succedere, medico nutrizionista, politico di Modena, l'abbiamo detto prima, operativo al centro oncologico di Modena, il COM, e offre supporto ai pazienti oncologici in cura, dove ovviamente da molti anni ha maturato una notevole esperienza. A lei, dottor Valoriani. Grazie infinite. Per me è veramente un piacere essere qui oggi. Il dottor Luppi ha ben descritto la complessità non solo della presentazione clinica, ma anche della gestione clinica di un paziente con una malattia di carattere neuroendocrino. E vediamo, ha ben descritto, come esistono delle specificità importanti e delle diversità che caratterizzano questo contesto di assistenza, diagnosi e cura, non solo da un punto di vista clinico, ma anche relativamente alla gestione nutrizionale. Quindi da qui un primo messaggio importante che mi sento di dare ai pazienti è quello di rivolgersi a professionisti che si occupano di nutrizione clinica con una particolare esperienza maturata e verificata nella gestione delle problematiche nutrizionali di pazienti oncologici in trattamento attivo, proprio in ragione delle peculiarità che questo contesto presenta. Questo ai fini di un'adeguata gestione delle diverse problematiche che possono essere presenti. Un tema a me molto caro e che vorrei cercare di chiarire è quello relativo a tutta una serie di informazioni che circolano sui mezzi di comunicazione a vario titolo e che ineriscono in qualche misura i rapporti che intercorrono tra il nostro modo di mangiare, la nutrizione e l'alimentazione e le patologie oncologiche. Ora, per sgombrare il campo da tutta una serie di misunderstanding e anche di messaggi controversi e molto spesso, a mio giudizio, rischiosi da un punto di vista clinico, io ho deciso di impostare alcune piccole diapositive se mi abilitate la condivisione se è possibile. Sì, arriviamo. Rispetto alle quali ho pensato di cambiare il punto di vista. Il punto di vista non è più l'operatore sanitario, ma in questo caso ho raccolto una serie di domande che sono le domande che i pazienti ci fanno in ambulatorio e che credo possa rappresentare un territorio comune da condividere che può essere utile affrontare ed esplodere in un contesto di un'associazione fatta di pazienti. Certamente è quello... Proviamo, Simone sta guardando. Prova a guardare sul nome, nei tre puntini. Sì. Vado a vedere, scusate. Ma ci manca la nostra... Adesso ce la facciamo. Nessun problema. Ma in teoria non potresti, Filippo, scusami, da condivido schermo giù non sei abilitato. Mi dice che l'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Sì, ma infatti non vedo i puntini. Adesso... Un secondo. Adesso lo faccio per tutti, così... Consente ai partecipanti di condividere schermo, dovremmo esserci adesso. Vediamo se me lo fa. No. Non lo fa? Allora, riprovo. Adesso dovrebbe. Prova? Adesso me lo fa. Perfetto. Scusate. Miglioreremo. Perfetto. Ok, nessun problema. Abbiamo risolto. Allora... Sicuramente, sicuramente quelle che ho cercato qui di raccogliere rappresentano le sette domande più frequenti e anche più di attualità che piovono addosso a chi si occupa di nutrizione nel contesto dei trattamenti oncologici attivi e che sono trasversali comuni a tutti i pazienti oncologici. Cercheremo di chiarire se è corretto o se è opportuno perdere peso nel contesto di un trattamento oncologico attivo e anche di capire quali possono essere le caratteristiche dell'alimentazione in termini di esclusione o meno di alcuni gruppi alimentari. Venendo da vicino andando a vedere da vicino la prima importante domanda è chiarire se è corretto perdere peso nel contesto di un trattamento oncologico attivo. Perdere peso nel contesto di un trattamento oncologico attivo non solo non è corretto ma potrebbe e è stato ampiamente dimostrato in diversi contesti avere un effetto detrimentale sulla tolleranza dei trattamenti stessi. Perdere peso prima e durante un trattamento oncologico aumenta quella che in gergo tecnico chiamiamo tossicità limitante la dose. Ovvero quei pazienti che affrontano il trattamento in scadute condizioni nutrizionali sono coloro nei quali assistiamo ad una tossicità tale che obbliga l'oncologo a sottodosare e sospendere o rimodulare il dosaggio del farmaco. Ciò che accade quando perdiamo peso durante o a seguito di una diagnosi oncologica e che caratterizza questo tipo di dimagrimento è la componente che viene persa. si assiste ad un dopoaperamento del patrimonio muscolare e a una contestuale ma non necessariamente presente perdita di massa grassa cioè di tessuto adiposo. Quello che sappiamo è che bloccare il calo di peso stabilizzare il peso corporeo e migliorare le condizioni nutrizionali durante i trattamenti oncologici attivi migliora la tolleranza al trattamento e migliora l'efficienza del trattamento stesso. Altra importante domanda che mi consente di fare un primo distinguo fra la cura di una malattia oncologica e la prevenzione di una malattia oncologica soggetto sano che intende ridurre il rischio di sviluppare una patologia oncologica N nell'arco della vita e se la dieta deve essere ricca di frutta verdura prodotti integrali o legumi per quanto riguarda il trattamento oncologico attivo non è così poiché questo tipo di alimenti hanno un basso apporto calorico sono poveri di proteine e l'adozione di regimi vegetariani o paravegetariani è sconsigliata nel contesto di un trattamento oncologico attivo per diverse ragioni in primis perché può contribuire ad un insufficiente apporto calorico proteico favorire il calo ponderale nonché esacerbare numerosi sintomi che caratterizzano la storia oncologica di numerose patologie come ad esempio la nausea il vomito la diarrea la perdita di appetito o la sazietà precoce siano questi secondari alla terapia e o ad una peculiare localizzazione di malattia vi ricordo che nel contesto di un trattamento oncologico attivo a seguito di una diagnosi oncologica i fabbisogni di energie e di proteine cambiano aumentano rispetto ad una condizione di salute in media in particolare quelli proteici di circa il 50% quindi per poter conservare il peso corporeo è necessario alzare l'asse dell'apporto nutrizionale medio giornaliero si precisa che questo tipo di raccomandazione fa riferimento alla prevenzione delle malattie oncologiche e non è una raccomandazione tipica riportata nelle linee guida che invece si occupano della nutrizione clinica nel contesto dei trattamenti oncologici attivi altro grande tema quello della carne rossa e dei salumi vorrei rassicurare tutti che consumare carne rossa carne bianca come il pollame pesce salumi e formaggi è una misura che consente di assumere proteine di buona qualità e non esiste nessuna pubblicazione scientifica che abbia dimostrato che l'assunzione di questi alimenti acceleri la crescita di una patologia oncologica esistente o tantameno possa ridurre l'efficacia delle terapie impiegate per curarla contenere escludere il consumo di alimenti di origine animale in particolar modo l'universo della carne può contribuire ad un insufficiente apporto proteico fa bisogno proteico aumentato nel contesto di una diagnosi oncologica e quindi esacerbare una condizione di malnutrizione o calo di peso anche qui da ricordare un grande distinguo questo tipo di riferimento è una in questo tipo di raccomandazione cioè di limitare non di escludere il consumo di carne rossa fa riferimento alla prevenzione delle malattie oncologiche e nulla a che fare con il trattamento delle stesse altro grande incriminato il latte e i derivati molto spesso ci viene domandato se consumare questi alimenti sia pericoloso o addirittura si dà talmente per scontato che lo sia che vengono eliminati dalle proprie abitudini alimentari ora in ragione delle pubblicazioni attualmente disponibili il consumo di questi alimenti non solo è sicuro ma rappresenta una variabile che contribuisce a garantire all'organismo proteine di elevata qualità e a di fatto assicurare buone condizioni nutrizionali non esistono lavori che abbiano dimostrato un effetto nocivo in termini di accelerare la progressione della malattia oncologica né tantomeno favorire l'accrescimento o la diffusione e contrariamente a quanto accade per le raccomandazioni precedenti il consumo di questi alimenti lo dice il fondo mondiale per la ricerca sul cancro sembra ridurre probabilmente il rischio di insorgenza di alcune forme tumorali altro alimento al centro di una campagna mediatica senza pari in particolar modo nel contesto dei trattamenti oncologici lo zucchero lo zucchero in tutte le sue forme è un prodotto pericoloso un prodotto che va a nutrire il tumore quindi lo devo sospendere allora a meno che sia non concomiti una diagnosi di diabete o un'alterazione dell'omeostasi della glicemia non è necessario applicare restrizioni all'apporto di zuccheri o di alimenti che contengono zucchero che in assenza di una diagnosi di diabete o di alterazione dell'omeostasi glicemica non trova accoglimento che può contribuire analogamente ad altri conti di carboidrati a garantire la copertura dei fabbisogni nutrizionali analogamente a quanto accade per la carne rossa l'idea che tal alimento favorisco acceleri la crescita di una malattia oncologica non trova riscontro in letteratura si fonda però su una verità che è quella che una patologia oncologica utilizza come prevalente fonte di nutrimento zucchero per poter crescere ma a me questo zucchero alla malattia oncologica arriva lo stesso perché il nostro organismo lo produce per far sopravvivere alcuni tessuti che vivono solo di zucchero anche di fronte ad una soppressione totale del consumo di zuccheri e quindi limitare l'assunzione di zuccheri non trova accoglimento salvo diverse indicazioni nel trattamento oncologico attivo diversamente per quanto concerne la prevenzione delle malattie oncologiche rappresenta una misura che è prevista ma non perché lo zucchero abbia un effetto diretto sull'accrescimento del tumore semplicemente perché le persone che hanno un'elevata assunzione di zuccheri sane che assumono un'elevata quantità di zuccheri tendono a sviluppare più frequentemente sovrappeso obesità che sono invece dei fattori di rischio riconosciuti per le patologie oncologiche alcune patologie oncologiche devo assumere integratori alimentari ora in condizioni normali a meno che non ci siano documentate condizioni di carenza non è necessario assumere supplementi nutrizionali del commercio diversamente ci sono delle condizioni in cui a seguito di documentate condizioni di carenza è necessario supplementare uno o più nutrienti per correggere un deficit e prevenire o trattare le manifestazioni cliniche dello stesso mi raccomando che l'indicazione all'uso di integratori alimentari o di supplementi nutrizionali dovrebbe essere fatta sotto la supervisione di personale adeguatamente formato perché il loro uso e abuso in particolar modo in alcune condizioni cliniche potrebbe dar luogo a fenomeni di tossicità che interferiscono negativamente con la tolleranza o l'efficienza dei trattamenti medici e quindi in questo contesto anche qui è necessario rivolgersi a personale adeguatamente formato in questo contesto evitando il fai-da-te o ricorso a misure di automedicazione che possono avere degli effetti negativi ultimo tema è quello del digiuno un tema assolutamente di attualità è utile digiunare durante la chemioterapia ora rispetto a questo per le conoscenze attuali il ricorso alla sospensione del consumo di alimenti o bevande per tempi n nel contesto di trattamenti oncologici non trova riscontro oggettivo in letteratura poiché gli studi attualmente disponibili sono studi di carattere preliminare e noi non sappiamo se questo tipo di misura non solo funzioni cioè produca un vantaggio reale nell'essere umano in termini di controllo della malattia ma anzi non sappiamo neanche se è sicuro e analogamente ad un farmaco non vengono somministrati farmaci o date indicazioni ad utilizzare farmaci in assenza di dati di sicurezza ed efficacia fino a che non avremo trials clinici controllati randomizzati che documentano la sicurezza e la reale efficacia del digiuno nei pazienti oncologici in trattamento attivo il ricorso a questo tipo di pratica è riservata a protocolli clinici sperimentali e quindi solo nel contesto di sperimentazioni nell'ambito della quale deve essere necessariamente previsto un adeguato monitoraggio clinico degli effetti collaterali un documento importante che credo i pazienti oncologici tutti i pazienti oncologici debbano conoscere è questo è un documento congiunto fra l'associazione italiana di oncologia america la FAVO la federazione italiana dell'associazione di volontà dell'oncologia e la società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo che cristallizza i diritti del paziente oncologico rispetto al supporto nutrizionale quindi la necessità ad una corretta informazione a un corretto counseling nutrizionale rispetto ai rapporti che intercorrono tra nutrizione stato nutrizionale alimentazione malattie oncologiche e trattamento oncologico attivo ed è una delle ragioni per cui siamo qui oggi è un diritto dei pazienti oncologici il diritto a ricevere uno screening un'adeguata valutazione dello stato nutrizionale prima dell'avvio dei trattamenti oncologici così come il diritto a ricevere delle prescrizioni nutrizionali appropriate ed efficienti oltre che efficaci il diritto ad avere un accesso diretto alle supplementazioni nutrizionali orali quando queste trovano indicazione clinica e hanno l'obiettivo di prevenire e trattare una condizione di malnutrizione calorico-proteica il diritto a ricevere una nutrizione artificiale appropriata e tempestiva nonché un moniforaggio dei trattamenti di nutrizione artificiale in un contesto domiciliare il diritto al monitoraggio della terapia nutrizionale alla prevenzione al trattamento del sovrappeso associato ad alcune terapie oncologiche così come ad un supporto psicologico adeguato e a partecipare a studi clinici controllati in tema di nutrizione clinica tutto questo per lasciarvi anche con un messaggio di un'autrice a cui io sono particolarmente legato che è Virginia Wolf che ci ricorda più che mai nel contesto mi verrebbe da dire nel contesto anche di un trattamento oncologico attivo che non possiamo certamente pensare bene amare bene dormire bene se non si è mangiato altrettanto bene bene grazie grazie dottor Valoriani devo dire che la sua inquadratura è strepitosa mi sembra che stia uscendo dalla galleria del Montebianco oppure è una scelta estetica veramente formidabile perché di solito c'è sempre uno sfondo invece questo nero così è veramente caravaggesco com'è caravaggesco bravo esatto esatto caravaggesco però siccome ho ritrovato la mail adesso non avevo molta importanza però poverini non erano state loro a sbagliare ero stato io che ho schiacciato male sul mio iPad e quindi andiamo a parlare con la dottoressa Angelina Fivice medico nucleare che si occupa a Reggio Emilia quindi da Modena ci spostiamo di poco ma in un'altra città molto bella Reggio Emilia della PRRT dottoressa che differenza c'è fra la PRRT e il PNRR questa è una domanda insomma purtroppo la differenza è tanta mi sa che la sua è quasi più importante insomma io per me sicuramente sì assolutamente quindi è la terapia radiorecettoriale che noi utilizziamo ovviamente nelle patologie mi sentite bene vero? perfettamente ok nelle patologie nel tumore neuroendocri insomma in quei pazienti che esprimono i recettori per la somatostatina che noi andiamo a documentare con la PET io insomma un minutino vorrei ringraziare la Simone e la Luisa per questa opportunità e tutti voi anche per me è la prima volta che partecipo a un evento di questo tipo ma ne sono molto contenta perché effettivamente anche noi trattiamo molti pazienti con tumori neuroendocrini e il tema dell'alimentazione della nutrizione insomma le domande dei pazienti ci vengono fatte un po' come a Gabriele insomma soprattutto nei primi anni ci venivano poste insomma le domande più varie sull'alimentazione su come il paziente doveva comportarsi eccetera ora sicuramente ecco che nell'approccio del supporto globale al paziente con patologia neuroendocrina durante la somministrazione di questo tipo di terapia la nutrizione così come anche il controllo del dolore sia una componente essenziale dell'assistenza insomma non ci sono dubbi perché sicuramente siamo consapevoli che la valutazione nutrizionale dovrebbe essere parte integrante nella gestione dei pazienti oncologici in generale ora non ci sono dichiaro subito delle accortezze specifiche per la terapia radiorecettoriale ma ovviamente essendo una terapia sistemica si avvale un po' di tutte le considerazioni che si fanno per le terapie sistemiche oncologiche in generale e abbiamo sentito prima insomma da Filippo io sono contenta di questa inversione diciamo così di presentazioni proprio perché mi ha dato occasione di ascoltare e di insomma prendere la su una cosa che a noi capitano i nostri pazienti di vedere a volte ovvero la malnutrizione cioè il fatto che il paziente sostanzialmente con tumori neuroendocrini per varie ragioni sia malnutrito aumenta purtroppo il tasso di complicanze di effetti collaterali al trattamento e diminuisce documentato in alcuni studi anche la risposta al trattamento la qualità della vita del paziente e questo giustamente perché non si riesce ad andare avanti con i trattamenti può esitare anche in una prognosi peggiore quindi si ripercuote in qualche modo anche sulla sopravvivenza dei pazienti e quindi riuscire in qualche modo ad avere una valutazione di esperti nutrizionisti in particolare proprio nei pazienti net diventa sicuramente fondamentale perché sia proprio il tipo di neoplasia che la terapia sistemica possono avere un impatto sulla nutrizione e diciamo che quando Luisa e Simona insomma mi hanno contattato per chiedermi di partecipare a questo evento io un po' ho immaginato insomma nella mia mente cosa potesse essere utile insomma raccontarvi e ho in qualche modo fatto nella mia testa un po' come dire mi sono immaginata le diverse fasi in cui il paziente arriva da noi in medicina nucleare per fare una visita di valutazione in previsione del trattamento radiorecettoriale quindi in questa fase pretrattamento in cui noi facciamo tutti gli accertamenti per andare insomma a vedere se il paziente insomma possiamo in qualche modo trattarlo e dopo quello che ha detto Filippo ovviamente a maggior ragione insomma sostanzialmente noi non vorremmo che il nostro paziente arrivasse nel nostro centro già con uno scadimento dello stato nutrizionale perché vorremmo che il paziente affrontasse al meglio il periodo del trattamento perché sostanzialmente abbiamo visto la nutrizione è importante per proseguire e tollerare le terapie quindi ne va proprio anche dell'efficacia della terapia quindi è importante tipo diceva soprattutto la riduzione e la perdita di massa muscolare perché i pazienti malnutriti sono più esposti anche a tossicità che si traduce quindi poi in una insomma ridotta chance terapeutica quindi questo effettivamente noi dovremmo in questa fase iniziale cercare assolutamente di evitarlo cosa possiamo fare durante il trattamento e durante il trattamento ovviamente noi ci auguriamo sempre di avere una valutazione di un esperto nutrizionista perché questo sicuramente ci aiuta e quello che possiamo fare come medici nucleari è quello di prevenire per quanto possibile tutto il corteo di sintomi che poi ci portano ad alterazione a uno schiavimento dello stato nutrizionale perché purtroppo la terapia radiorecettoriale dà dei sintomi tra i più frequenti nausea e vomito l'inappetenza a volte il dolore addominale anche la diarrea meno frequentemente anche il disturbi del senso del gusto come sintomo e quindi sicuramente dal nostro punto di vista arrivare a trattare questi sintomi ci aiuta poi a ridurre sostanzialmente la possibilità di dover rallentare i nostri trattamenti e via dicendo soprattutto di vedere appunto il nostro paziente con uno stato appunto di malnutrizione e a questo ovviamente come medici nucleari siccome somministriamo un farmaco radiattivo è importante che spieghiamo bene ai nostri pazienti che ci sono delle norme comportamentali radiopotezionistiche proprio che ci aiutano a ridurre più possibilmente la tossicità che può dare il nostro trattamento che potrebbe contribuire comunque a defiedare il paziente noi questo ovviamente non vogliamo che succeda quindi al nostro paziente durante il ricovero anche in sede di visita spieghiamo che essendo il farmaco radiattivo ed essendo l'eliminazione di questo radiofarmaco prevalentemente per via urinaria durante il trattamento in particolare insomma nelle prime due giornate il paziente dovrà idratarsi molto bene bere una quantità di acqua insomma significativa di solito suggeriamo circa un bicchiere all'ora in modo che il paziente riesca ad urinare frequentemente ad eliminare appunto il farmaco e cercare di mantenere l'intestino pulito quindi cercare insomma questo anche di usare dei lassativi se necessario sempre questo al fine di eliminare il nostro farmaco nella fase di post trattamento ovviamente noi il paziente continuiamo a seguirlo perché il paziente a distanza di circa tre mesi farà poi controlli con l'imaging per valutare l'effetto della terapia l'efficacia della terapia e anche in questo caso ovviamente il supporto alimentare e continuare a prevenire e trattare i sintomi che possono impattare sulla nutrizione diventa sicuramente importante quindi fondamentalmente non abbiamo sostanzialmente come dire delle raccomandazioni imprecise specifiche su alimenti da evitare eccetera ma sicuramente queste sono tutte considerazioni che credo siano importanti io sono stata credo molto breve però insomma mi sentite vero? sì certo sì sì ok anche per lasciare spazio alla discussione perché poi si su radioattività eccetera a volte insomma ok grazie grazie no grazie dottoressa è stata efficacissima e ci ha spiegato bene anche la differenza con il PNRR adesso io metterei il dito nella piaga perché quante volte ho detto no cioè abbiamo un problema in questo benedetto paese cioè la medicina generale la medicina del territorio il primo anello che il paziente si trova ad affrontare nel percorso che poi lo porterà fino al tavolo operatorio oppure alla sala della dottoressa Felici piuttosto che occuparsi dei problemi della nutrizione e allora abbiamo il piacere di avere con noi è la prima volta ma mi auguro sia Luisa che Simona che d'ora in poi avremo sempre la dottoressa o altri ovviamente suoi colleghi che volessero parlare di questo problema la dottoressa Roveri che ci parlerà lo sapevo è da qualche minuto che stavo dicendo si dirà Roveri o Roveri 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 va bene ma andava bene uguale grazie sì va bene lo so però insomma è corretto nessuno direbbe Pampananà ecco insomma e quindi ma ora ecco iniziamo subito lei avrà preparato il suo intervento però io le voglio chiedere ma lei affrontavo affrontavo proprio questo alimento in primis quindi lei è una mosca è una mosca nel senso lei è un'eccezione lo faccio sempre giudicare i miei pazienti io non posso esprimere no rispetto i suoi pazienti non ho dubbio saranno felici di avere una dottoressa che si occupa di loro come lei ma rispetto alla mia critica in generale sulla medicina del territorio sono esagerato? sì non so adesso avevo volevo proprio iniziare da questo argomento quindi avvio anche io avevo fatto una presentazione che no non deve iniziare dall'inizio ma dall'inizio dalla fine ma dall'inizio ok volevo proprio affrontare questo tema per primo infatti ringrazio Simona e Luisa per l'invito a partecipare a questo evento e appunto per aver coinvolto un rappresentante della medicina generale infatti la prima domanda che ho voluto affrontare è proprio questa ma ci può essere un ruolo per i medici di famiglia nella gestione delle malattie rare perché diciamo sembra questo accostamento medico di medicina generale ecco appunto io faccio il medico di famiglia in provincia di Modena questo accostamento tra la medicina generale e malattie rare sembra quasi uno simoro una contraddizione perché nell'immaginario di tutti il medico di medicina generale si occupa della è anche detto medico di base della base delle malattie più frequenti più prevalenti nella popolazione ma che cosa c'entra con una malattia rara questa è la risposta che ho voluto dare io le malattie rare dirò una banalità sono rare ma esistono cioè se noi pensiamo che circa ogni medico di medicina generale segue 1500 pazienti dai 4 agli 8 sono affetti da una malattia rara e questo vuol dire che ovviamente si trova nella sua pratica quotidiana a dover dare risposte di questo tipo e la risposta che auspico io è questa io spero che i pazienti che ci stanno ascoltando non si rivolgeranno ai propri medici di famiglia solo per gli aspetti burocratici vi sarete rivolti quando avrete dovuto fare la pratica dell'invalidità civile la legge 104 le certificazioni le esenzioni eccetera il medico di famiglia possa entrare a far parte a pieno titolo diciamo in quella che è la rete di assistenza globale che deve essere a supporto del paziente e della sua famiglia perché ovviamente se è una rete ma c'è un anello debole questa rete non regge cioè questo può avere un impatto molto negativo anche sulla qualità dell'assistenza al paziente se manca una figura come la medicina generale e per rispondere alla domanda che mi è stata fatta credo che la medicina generale debba compiere uno sforzo cioè sicuramente non è arrivata ma debba compiere uno sforzo per aumentare la sua cultura la sua competenza nelle malattie rare e quindi poter migliorare la risposta di assistenza e di conseguenza la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie se posso farvi una domanda scusate come paziente è appunto quella di coinvolgere i vostri medici di famiglia coinvolgerli nel percorso che state facendo perché anche loro siano a conoscenza di tutte le vostre diciamo del vostro iter delle vostre difficoltà e vi possono essere d'aiuto anche perché appunto adesso arrivo al tema di cui volevo parlare oggi che è appunto quello dell'alimentazione questo è un esempio proprio calzante perché molto spesso quello che mi succede non solo per i pazienti oncologici ma in generale per tutte le malattie è che quando un paziente si trova davanti al medico specialista a parte qualcuno molto illuminato come il prof lupi vengano toccati temi di diagnosi proniosi terapia e difficilmente si riesca poi a entrare nell'ambito di quelle che il paziente poi a volte non si tenta diciamo di fare perché le ritiene domande banali poi quando torna a casa si trova a far fronte alla sua vita di tutti i giorni e la domanda cosa mangio non è una domanda per niente banale anzi e quindi ad esempio anche in un ambito come questo sapere di poter contare sul proprio medico di famiglia come alleato nella gestione della vita di tutti i giorni secondo me è un valore aggiunto che la medicina generale deve dare e allora io ho voluto toccare in questa giornata questo tema cioè come ci ha fatto vedere il dottor Valeriani molto bene ci ha dato le linee guida per i pazienti diciamo asintomatici che sono simili a quelli della gestione di tutte le malattie oncologiche però per i net la situazione cambia in maniera importante se ci sono sintomi chiaramente se ci sono sintomi allora ci deve essere una modificazione della dieta che ci possa aiutare a gestire questi sintomi e io ho voluto diciamo raccogliere quelle che sono le raccomandazioni per la gestione dei due sintomi un po' più frequenti dei net che sono appunto la diarrea e l'estremo opposto cioè il dolore addominale da invece stitichetta allora come dobbiamo regolarci in caso ci sia una diarrea la diarrea nei net sappiamo diciamo è una diarrea che può dipendere da tantissimi fattori sia dalla malattia stessa dalle terapie da effetti collaterali di farmaci concomitanti quindi ci possono essere tante situazioni allora come mi devo come se un paziente mi chiedesse ho una diarrea come mi devo alimentare allora innanzitutto volevo dare alcuni consigli di carattere generale cioè quando è in corso una diarrea soprattutto una diarrea cronica come può essere quella dei net allora innanzitutto il pasto deve essere preferibilmente a temperatura ambiente quindi non eccessivamente caldo deve essere un pasto preferibilmente piccolo e frequente quindi non troppo abbondante poco condito e generalmente senza aggiunta di spezie quindi senza pepe peperoncino in generale deve essere più tendenzialmente magro secco e i metodi di cottura che ci possono aiutare di più sono la cottura al vapore a microonde alla griglia o alla piasta o in pentola a pressione quindi evitare fritture cotture in padella o bolliti e che cosa se ho appunto la diarrea e voglio gestire come posso questo sintomo con l'alimentazione cosa posso mangiare cioè qual è il contenuto allora chiaramente ci deve essere una quota di proteine soprattutto le proteine più magre abbiamo visto il pasto deve essere preferibilmente magro quindi magari preferire i tagli più magri della carne il pollo ad esempio la ricotta che è un formaggio magro le uova lo yogurt lo yogurt è una fonte di fermenti lattici quelli che diversamente andiamo ad acquistare in farmacia se noi mangiassimo un buono yogurt li troveremo qui ed è molto importante per mantenere una flora microbica normale a livello intestinale quando c'è la diarrea invece devo evitare che cosa i legumi perché sono proteine ma sono anche irritanti a livello intestinale e in generale le carni grasse ci deve essere chiaramente nel mio pasto oltre alle proteine una quota di carboidrati soprattutto sono ottimi da questo punto di vista i prodotti ricchi di amido il riso le patate il grano saraceno ad esempio in questo caso invece appunto diversamente quando diceva quanto diceva prima il dottor Valeriani sarebbe utile ridurre la quota di zuccheri semplici perché questi glucoso fruttoso rafforzano i processi fermentativi e quindi danno ancora più disturbi e anche escludere soprattutto nella fase acuta il lattosio quindi il latte i latticini contenenti lattosio e anche il saccarosio quindi eliminare marmellate miele caramelle succhi di mela l'uva eccetera un'altra domanda può essere ho la diarrea devo completamente eliminare le fibre come si diceva una volta allora probabilmente completamente eliminarle no anche perché appunto se la diarrea è cronica risulta molto difficile però sicuramente ci può aiutare una dieta a ridotto contenuto di fibre quindi quella che gli esperti definiscono come una low fiber diet cioè una dieta a basso apporto di fibre e in questa fase vanno eliminati i cereali integrali e i legumi ancora una volta il condimento se ho la diarrea deve essere prevalentemente un condimento a base di oli vegetali quindi tipico l'olio d'oliva è meglio evitare grassi come il burro o la margarina e ultimo ma non ultimo forse doveva essere il primo consiglio in caso di diarrea quello di aumentare l'idratazione quindi aumentare l'apporto di liquido l'ideale sarebbe un'acqua arricchita in potassio perché quando ho la diarrea perdo non solo liquidi ma anche potassio per evitare la disidratazione e invece sono negativi tutti quei liquidi come il caffè o il tè cioè che contengono caffeina e teina quindi fatta questa rapida carrellata diciamo su come comportarci in caso di diarrea come ci può aiutare l'alimentazione volevo andare invece al lato completamente opposto cioè come faccio se invece c'è un quadro più invece di costipazione con tutti i sintomi correlati dolore addominale distensione addominale meteorismo quindi siamo nel capitolo esattamente opposto allora in questo caso i consigli per la gestione alimentare sono innanzitutto di non saltare i pasti soprattutto la colazione perché tutte le volte che noi mangiamo si attiva un riflesso che è il riflesso gastrocolico che favorisce la motilità intestinale quindi la progressione delle feci ok aumentare anche qui sui liquidi invece il consiglio è lo stesso quindi aumentare l'apporto di liquidi soprattutto sarebbe l'ideale un'acqua arricchita in magnesio e solfato il magnesio sappiamo tutti ha un'efficacia lassativa quindi se ho difficoltà appunto nell'evacuazione un'acqua arricchita in magnesio sarebbe proprio l'ideale dobbiamo raggiungere circa uno e mezzo due litri d'acqua al giorno questo chiaramente in assenza di patologie diverse se questa quantità non riesco a raggiungerla tramite l'acqua minerale allora l'ideale è apportare aumentare anche l'apporto di altri fonti idriche quali possono essere le tisane di camomilla di finocchio eccetera quando una persona soffre di prostipazione un altro consiglio che si dà è una dieta ricca di fibre allora cosa vuol dire una dieta ricca di fibre ricca vuol dire più o meno questa quantità di fibre e per chi vuole che lascio lascerò le slide dopo ho trovato una tabella dove per ogni tipo di alimento mi dà l'apporto di fibre però se non vogliamo ovviamente se ovviamente non siamo portati a calcolare proprio con la calcolatrice i grammi di fibre una quantità diciamo corretta può essere questa se io consumo 4-5 porzioni di frutta e verdura al giorno e preferisco i cereali integrali arrivo alla quantità raccomandata di fibre per la dieta che aiuti in caso di costipazione se non riesco ad aumentare questa quota esistono sappiamo anche integratori di crusca e di fibre in polvere da aggiungere agli alimenti quindi ad esempio da aggiungere allo yogurt da aggiungere a diversi alimenti una raccomandazione che è importante fare nel caso in cui la persona voglia aumentare l'apporto di fibre è quello che questo deve essere sempre molto graduale perché le fibre sono molto positive dal punto di vista dell'aiuto in caso di costipazione però hanno un effetto collaterale cioè fermentano e quindi aumenta il discorso del meteorismo quindi se voglio aumentare l'apporto di fibre dovrò farlo gradualmente e non devo neanche eccedere cioè gli esperti raccomandano di non andare oltre 50 grammi di fibre al giorno però ripeto senza voler andare a pesare i grammi se ci si mantiene intorno alle 4-5 porzioni di frutta e verdura al giorno sono a una quantità adeguata e se possibile la cottura migliore da questo punto di vista sarebbe la cottura al vapore qui ho fatto una breve carrellata di alcuni alimenti molto positivi in caso di costipazione spinaci fagiolini melanzane finocchie sia lessi al vapore anche carciofi broccoli cavolfiore anche se possono indurre gonfiore addominale e se non sono in grado di aumentare di mangiarli diciamo come tali un'alternativa sono tutte le zuppe il condimento deve essere prevalentemente a base di oli anche qui vegetali olio di oliva olio di semi l'olio d'oliva ha un'azione sulle fibre che è appunto lubrificante quindi molto positivo un altro sistema di condimento sono i semi oleosi sappiamo i semi di lino hanno un'efficacia lassativa molto importante quindi possono essere utilizzati anche nei condimenti degli alimenti tra la frutta gli ottimi in caso di costipazione sono kiwi pere mele albicocche prugne e fichi ok io ho terminato la mia carrellata non so se ho risposto alla domanda che mi era stata posta all'inizio però insomma sono ancora a disposizione insomma se ci fossero altre domande vi ringrazio no grazie a lei certamente ha risposto cioè ha risposto con la sua stessa esperienza e con la sua sapienza la mia esperienza professionale come giornalista che si occupa soprattutto dei problemi dei cittadini e anche come paziente net è un po' meno ottimistica nel senso che magari fossero tutti come lei i medici di medicina generale e non si occupassero solo ma non per colpa loro è il sistema che li porta a questo solo ed esclusivamente al certificato a ricetta e ad avere magari una segretaria che compila la ricetta la porta sul tavolo del medico lui firma e probabilmente non ha mai visto in vita sua quel paziente ma così non deve essere lei è la dimostrazione di come deve essere non è un complimento che le faccio è un dato di fatto cioè è una realtà poi le amiche dell'associazione sanno che cosa e anche Gabriele la professoressa Tomasetti sanno perfettamente cosa penso della regionalizzazione della riforma del titolo quinto che a mio avviso è stata deleteria per i pazienti in generale però non tutti la pensano come me non la pensarono così qualora che la votarono e quindi è un discorso politico che ci porterebbe fuori strada in questo momento Luisa c'è una domanda non so se hai visto per il dottor Luppi nella chat non so se Gabriele tu l'hai vista è una domanda di una sì l'ho vista una domanda è bella tosta no? è bella tosta di cosa muove un paziente con net non se c'è niente in realtà anche quando si parla dei rezzi cerdenti in particolare della sindrome da carcinoide sappiamo che prognosticamente è sovorevole poi diciamo che innanzitutto non è che tutti quelli che hanno un net non se cernente muoiono anzi quanti guariscono nei stadi soprattutto precoci o addirittura convivono con un piccolo net non se cernente nel pancreas o da qualsiasi altra parte che rimane stabile per anni quindi poi diciamo che la fase avanzata perché magari la malattia diventa refrattaria le terapie perché ci sono più sedi di metastasi perché alla fine diventa simile alle altre neoplasie ovviamente dipende da qual è la sede o l'orgono dove maggiormente si sviluppa la neoplasia se è il fegato piuttosto che il cervello piuttosto che le ossa quindi quando la malattia diventa refrattaria le terapie ed è molto avanzato ovviamente non ci interessa più che quella malattia si chiami MET o si chiami cancro della mammella o del polmone e noi dobbiamo curare questo paziente per con le adeguate cure palliative e fare il meglio possibile e come dico sempre non dire mai non c'è più niente da fare perché anche in quelle fasi c'è molto da fare per dare valore e qualità alla vita dei pazienti Grazie Gabriele se ci sono altri quesiti Sì Andrea volevo fare solo un appunto Allora la cosa l'aspetto che riguarda i medici di medicina generale a noi come sai bene è molto caro perché già col dottor Luppi abbiamo fatto anni fa un corso nella provincia di Modena proprio dedicato ai medici di medicina generale che ha riscontato parecchio successo nel senso che abbiamo avuto delle evidenze di diagnosi poi magari il dottor Luppi ci dirà meglio e abbiamo purtroppo il covid ci ha fermati però con l'associazione abbiamo proprio stiamo partiti abbiamo già lanciato questo progetto e partiremo e dal primo di gennaio del 2023 sarà disponibile gratuitamente per i medici di medicina generale italiani cioè proprio sul territorio un corso accreditato quindi avranno la possibilità di accumulare i crediti ACM quindi una FAD che potranno fare in podcast quindi quando vorranno e che parlerà dei NET e dei GIST quindi in questo modo daremo a chi vorrà la possibilità di informarsi sulle patologie abbiamo anche il dottor Luppi che ha parlato in questo corso altri professionisti dell'Istituto Tumori per cui insomma questa è una cosa che abbiamo fatto per adesso accreditandolo per 500 medici ma poi lo potremo riaccreditare se vediamo che ha successo come speriamo perché la nostra una delle nostre mission più importanti è proprio quella di far conoscere i NET dare modo anche ai medici che vedono che hanno contatto diretto col paziente non dico di curarlo o di diagnosticarlo perché a volte è difficoltoso ma il sospetto genera il fatto che magari possano indirizzarlo nei centri di riferimento e che poi lo possano seguire dopo questa è la cosa è la sfida grande che dicevi tu probabilmente Andrea il fatto di mettere a disposizione anche dei medici che seguono di medicina generale che seguono il paziente e la possibilità di avere l'esperienza l'expertise e anche la conoscenza per poi trattarlo bene perché quando discutevamo con la dottoressa Roveri di questa cosa lei abbiamo parlato del fatto che a volte le si presentano Giulia dimmi se casi in cui lei a volte è in difficoltà perché non conosce il paziente i pazienti soprattutto quelli seguiti da centri specialistici succede che per diversi mesi non vengano visti da noi medici di famiglia e poi succede che mi succede in ambulatorio che quando magari non sto parlando della realtà di Modena che anzi è molto presente però c'è un problema acuto dei ospital oncologico dice rivolgetevi al vostro medico di base il problema è che se noi non vediamo il paziente da tanti mesi veramente siamo in difficoltà e quindi per quello che dicevo ai pazienti un mio consiglio è cercate di coinvolgere il vostro medico di famiglia poi capisco anch'io che spesso la risposta non sarà adeguata però ripeto secondo me è un alleato che è giusto avere è giusto coinvolgere ecco in una recente posso Andrea sì certo certo Paola scherzi no no ma non ti ho interrotto no 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 è perché volevo citare solo una recentissima ricerca fai fai molto seria in cui i cittadini italiani nella stragrande maggioranza dei casi le due figure cardini della società nelle quali non hanno particolare fiducia sono il magistrato e il medico di base il medico di famiglia e quindi la mission che Simona ha appena lanciato è straordinaria è un miracolo se riescono a coinvolgere se riescono a superare il confine dello stato pontificio perché voi eravate nello stato pontificio una volta sì no io volevo dire questo voglio spezzare una lancia nei confronti dei medici di base medici di famiglia perché sì è vero abbiamo tutti dei problemi dei difetti per carità però loro sono intanto come dicevi tu Andrea uberati di pazienti e spesse volte quando i pazienti vengono da noi noi come penso tutti facciano diamo sempre una lettera per il medico curante però molte volte i pazienti non ci vanno e questo perché magari hanno mi scusi se lo dico un poca fiducia perché si affidano allo specialista e magari non comprendono che il medico di famiglia può dare un grosso aiuto però poi c'è anche un'altra cosa da dire che nessuno mai menziona però io me lo sono sentito dire tante volte ma sì lei mi dica quali sono i problemi di questo paziente però io cosa vuole che ne sappia me ne capita uno in tutta o due tre in tutta la mia carriera di medico di famiglia perché noi siamo in presenza di una malattia rara quindi non è che possiamo quello che fanno che hanno già fatto Simone e Luisa con i medici di famiglia di Modena adesso hanno quest'altra iniziativa sicuramente l'odevolissima poi avevamo pensato di farlo anche con i medici di famiglia di Ravenna che si erano mostrati però i medici di famiglia dottore Salori lei lo sa ovviamente meglio che medico di famiglia voi siete obberati siete obberati di riunioni siete obberati di ECM siete obberati perché le aziende vi convocano in continuazione quando c'è una malattia rara questa malattia rara ha necessità di esperienza di expertise quindi ripeto tante volte mi sono sentita dire ma io ne vedrò 4, 5, 6 in tutta la mia carriera pensateci voi questo è un altro aspetto che non è una colpa che facciamo i medici di famiglia anzi tutt'altro per cui sicuramente ci deve essere questa questi tumori non sono come ho detto prima non sono più così rari sono meno rari di quello che non è degli ultimi lavori anche americani dimostrano che sono e spesse volte passano indiagnosticati perché sono molto piccoli quindi si arriva tardi però ecco adesso sicuramente l'incremento di questi tumori può stimolare il medico di famiglia a cercare di capirne un po' di più e noi questo il lavoro di Simone di Luisa è estremamente importante cercare di informarli meglio però il fattore non è che il medico di famiglia ha tanti pazienti poi firma la ricetta hai ragione Andrea però dipende ecco come io dico sempre non siamo tutti uguali allora quello che si interessa di più è quello che sorbola ecco io infatti mi complimento molto con la dottoressa Roveri ne avevo parlato con la Simona e ero rimasta fortemente colpita e ben impressionata dall'interesse che la dottoressa ha avuto per questo tipo di patologia e tutto lo sforzo che ha fatto per cercare di seguire gli specialisti quindi mi rendo conto perfettamente però ci sono delle criticità ecco che non sono facilmente risolvibili a mio avviso se posso sapere questo argomento che è molto importante un ruolo attivo devono averlo anche gli specialisti ospedalieri di facilitare di rendersi disponibili a istruire i pazienti anche a rivolgersi al medico a coinvolgere il medico di famiglia adesso fortunatamente l'informatica ci aiuta le lettere non c'è più bisogno di andare a farla in laboratorio ma le possono vedere direttamente quindi questi sono già passi avanti ma è giusto che anche il paziente che ha il glucagonoma questa roba stranissima che abbia l'assistente da parte del proprio medico ma questo passa attraverso un rapporto facilitato tra medico di famiglia e specialista che ci sia una facilità di comunicazione con il paziente e che i pazienti siano tutti come la Simona che ha coinvolto attivamente il proprio medico di famiglia insomma quindi sono tre gli attori che devono collaborare perché è pericoloso anche lo specialista che è con il paziente e il paziente che si affida allo specialista perché poi tanto lo specialista a un certo punto dice adesso vai dal tuo medico di famiglia come dopo un anno due anni tre anni scarichi sul medico di famiglia un paziente iper complicato che non ha mai visto questo non è corretto non può essere normale ecco no questo hai assolutamente ragione Gabriele però io adesso so dai miei colleghi dai miei allievi che sono diventati anche hanno funzioni di direzione primaria al Sant'Orsola è che adesso c'è sempre di più e quindi il discorso che stanno facendo le ragazze si innesta molto bene in quello che è il territorio la valutazione lo stimolo dei medici di famiglia e comunque del territorio perché ci sono dei progetti e poi la dottoressa lo saprà meglio di me ci sono dei progetti di attivazione del territorio da parte dell'ospedale perché l'ospedale quando mi sono laureata io e forse anche tu Gabriele e noi tenevamo i pazienti lì così potevamo avevamo le possibilità di tenerli di studiarli bene adesso si fa un esame poi via e allora il medico di famiglia poveretto si trova questo paziente che arriva magari non adesso le lettere le facciamo sempre però magari il paziente ha una forma di neoplasia strana rara e uno si trova sicuramente in difficoltà in imbarazzo però forse questo è il momento proprio più giusto per attivare questo meccanismo di link forte tra medico ospedaliero universitario quello che è e il territorio forse questo è il momento giusto eh sì allora abbiamo una domanda per tornare al discorso della nutrizione che c'era arrivata via posta in precedenza quindi chiederei al dottor Valoriani chiedevano dell'impatto delle vitamine del gruppo D sui tumori ci hanno chiesto questa cosa a un certo punto è quindi è ancestrale nel senso questo è un altro è un altro mantra che in realtà attinge in parte da delle informazioni che fanno riferimento in particolar modo al mondo ematologico il messaggio da dare è questo cioè che in assenza di necessità di dover integrare delle vitamine con la normale alimentazione si riescono a soddisfare tutti i fabbisogni e con l'alimentazione è impossibile assumere un dosaggio di vitamine tale da procurare dei danni ecco delle formulazioni in eccesso diversamente l'uso di supplementi nutrizionali arricchite in vitamine di varia natura come prima stavo cercando di spiegare se non supportato da una necessità clinica oggettiva non solo non trova accoglimento ma può dare luogo a fenomeni di accumulo o interferire negativamente con il trattamento dando per esempio fenomeni di tossicità epatica ecco quindi anche in quest'ottica evitare formulazioni del commercio e vorrei rassicurare sul fatto che se utilizziamo gli alimenti naturali non dobbiamo andare a estendere in maniera importante le esclusioni di interi gruppi alimentari nell'ottica di ottenere un vantaggio in termini di controllo di malattia perché quest'operazione non è solo avulsa da quello che ci dice la ricerca ma può avere anche delle implicazioni cliniche importanti e generare delle carenze gravi grazie perché se lei vedesse cosa scrivono nei gruppi ha scritto delle cose sulla vitamina B che è veramente ma il concetto è che questo tipo di flusso di informazioni secondo me testimonia una necessità una sete di chiarezza tutti mangiamo tutti sono legittimati ormai a parlare di nutrizione anche a volte fuori dai cori ma diffondere informazioni distorte genera solo altra confusione in un contesto dove la nutrizione gioca un ruolo importante e quindi sulla pelle di pazienti si gioca una battaglia a mio giudizio come dicevo prima non condivisibile non solo da un punto di vista scientifico ma neanche clinico e tantomeno etico assolutamente è proprio per questo che abbiamo cercato di fare questa cosa oggi perché alla fine l'informazione deve essere sempre corretta perché altrimenti si creano dei falsi miti ci sono dei gruppi della vitamina C che sembrano sembrano veramente degli ultras dissipando anche risorse oltre che economiche anche emotive a volte in maniera difficilmente come dire condivisibile soprattutto perché si parla con persone che hanno delle debolezze in quel momento quindi si attaccano a qualsiasi cosa si fallega esattamente quando ho usato il termine etico si fallega su un vissuto nel contesto del quale una persona è disposta a fare di tutto per nutrire delle speranze ok chiaro questo che molto spesso io trovo difficilmente sostenibile condivisibile da un punto di vista etico dovremmo cercare di fare bene uno in primis le cose giuste e le cose giuste di farle bene efficienza e appropriatezza direi dottor Valeriani anche di parlare se si ha conoscenza se si ha fondamentale che si sa perché altrimenti è meglio ecco complimenti complimenti lei ha detto parole precisissime parole sante che condividi perfettamente bravissima non è per fare un complimento ma le dico la verità impressione che ho riportato ascoltandola grazie vi vorrei ricordare che noi abbiamo avuto due anni di pandemia durante i quali noi poveracci cioè la gente comune io mi metto fra la gente comune anche se come giornalista sento di aver avuto delle responsabilità abbiamo dato parola a un sacco di cialtroni che si presentavano in televisione con qualifiche altisonanti poi quando vai a leggere il libro di Quiman senza respiro quello che scrisse spillover e vai a leggere l'elenco dei crediti centinaia di persone intervistate in tutto il mondo eccetera alcuni di quei nomi che vedevamo in televisione non esistono quindi non esistono nel senso dell'informazione purtroppo però noi io mi ricordo benissimo che quando uno degli allievi della professoressa Antonio Bianchi mi disse oh mi raccomando non andare a vedere su internet che cos'è il net e io dissi ma ci mancherebbe altro scusa Antonio ma io sono una persona di un certo livello culturale non credo fosse ancora uscito dalla porta che aveva una conoscenza internetiana dei net quasi superiore alla sua tra le quali cose e un sacco di stupidaggini ovviamente che però poi grazie a Luisa Simona Paola e tutti gli altri sono riuscito a ripulire allora io avrei un'altra domanda per la dottoressa Felice ci sei? sì 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 ci sono ci sono anche questa è arrivata dalla rete tempo fa ne abbiamo già parlato ma credo che sarebbe bene ripeterla qui proprio perché così chi ci ascolta chi ci ascolterà poi chi ci vedrà poi successivamente potrà potrà averne beneficio c'era stato chiesto da una da una paziente che era stata sottoposta a PRRT se poteva fare da mangiare ai propri figli perché non aveva modo di farlo fare a qualcun altro subito dopo essere tornata a casa dall'ospedale noi ne abbiamo parlato e credo che insomma sarebbe il caso di condividere la risposta che ci hai dato tu anche con chi ci segue perché magari è utile a tutti quelli che faranno la terapia in futuro assolutamente simona assolutamente sì infatti il discorso radioprotezionistico e soprattutto esposizione dei pazienti e dei familiari è un discorso insomma complesso soprattutto quando si hanno dei bambini piccoli insomma noi chiediamo per sette giorni di avere delle accortezze in particolare la cosa che chiediamo è di cercare di evitare sicuramente il contatto fisico diretto di cercare di mantenere una distanza perché le radiazioni come dire ridurre per ridurre l'isposizione bisogna ridurre il tempo e la distanza dalla sorgente queste sono le due misure su cui giochiamo quindi ridurre sostanzialmente il tempo di vicinanza a questi bambini ma la paziente può assolutamente preparare da mangiare io il consiglio che avevo dato è per scrupolo veramente se vuole di usare i guanti lo ripeto semplicemente perché il farmaco insomma viene eliminato con le urine insomma così semplicemente veramente per scrupolo lavarsi le mani sarebbe assolutamente più che sufficiente però ecco se uno vuole essere veramente come dire prudente usare i guanti mentre si tagliano non so verdure o altro potrebbe essere utile però ribadisco è una misura se vuoi un po' eccessiva veramente basterebbe aver cura di lavarsi le mani grazie niente grazie a voi grazie a voi bene io direi che possiamo concludere siamo stati nei tempi in maniera presso te perfetta è stata una bella serata personalmente sono molto contenta perché è stata proprio come l'avevamo pensata una chiacchierata con tanta professionalità ma nulla di particolarmente accademico nel senso che noi quello che ci teniamo sempre a dire è nel momento in cui approcciamo i pazienti dobbiamo cercare di usare un linguaggio che sia a portata di paziente perché tutti devono capire nessuno si deve spaventare direi che questa sera ha rispettato proprio completamente queste caratteristiche quindi grazie a tutti i nostri professionisti che sono intervenuti questa sera e anche i pazienti che si sono collegati sono rimasti pazienti o familiari adesso io non entro nel dettaglio Luisa salutiamo Ornella Ornella Vezzaro no no non l'ho visto eh sì si è collegata da poco ah ok siccome è uno delle nostre icone direi che è un piacere salutarlo vuol dire che sta bene qui con noi perfetto benissimo allora direi che possiamo concludere Simona tu hai qualcosa da aggiungere? io volevo ringraziare Andrea che è sempre con noi e ci dà sempre una mano ci dà supporto volevo ringraziare tutti veramente tutti voi perché ognuno ognuno nel suo nel suo campo ci ha dato una mano questa sera a a tenere a tenere questa conversazione così piacevole ci siamo sentiti davvero intorno a un tavolo e non in un'aula di 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 scuola insomma o comunque in un'aula universitaria ma proprio ci siamo detti quello che ci dovevamo dire e magari lo potremmo rifare o sentirci più avanti anzi invitiamo se qualcuno ha qualcosa poi da chiedere lo potrà fare noi vedremo di dare di dare un feedback quando possibile grazie davvero a tutti per il vostro tempo grazie a voi grazie a voi grazie a voi buona serata grazie grazie mille e buon Natale buon Natale buon Natale grazie 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 mille grazie a voi